giovedì 14 dicembre ben trovati con ieri oggi 1856 apre il casino di monte carlo grazie a un provvedimento varato dal principe florestano primo di monaco era nata oggi nel 1915 a veninchi è stata una protagonista del cinema italiano e soprattutto della commedia nel 95 termina la guerra in yugoslavia nascono così gli stati indipendenti di slovenia croazia bosnia e erzegovina serbia e montenegro nel 2003 al termine dell'operazione alba rossa saddam hussein viene catturato dagli americani l'esame del dna confirma l'identità del prigioniero questa sera al gran teatro di mantova concerto di fiorella mannoia quanti ricordi che si lasciano per strada quante volte ho rovesciato la clessidra questo tempo non è sabbia è tutto per ieri oggi giovedì 14 dicembre